e da tanto che non ne faccio uno allora buongiorno sono le 6 e 45 ultimamente i miei orari sono questi perché il conservatore è sempre pieno quindi devo arrivare abbastanza presto per poter trovare delle aule appena ho fatto la doccia infatti adesso mi asciugo i capelli e poi vado a fare colazione mate e arepa oggi fa freddo evidentemente no non fa così tanto freddo se l'ho perso mi sono dimenticato di registrarti quando stavo mangiando però ho mangiato adesso ristabilisco un po perché stamattina le prove sono state un po pesantucce e abbiamo lezioni alle 2 sono cotto sono cotto